Dopo il successo del tour nei palazzetti, ho pensato che nel 2023 avrei voluto suonare live la mia musica assieme ad altri artisti, assieme ad altri amici. Realizzare un festival rap che celebrasse il percorso che questa musica ha fatto in questi anni, saremo davvero tantissimi. I due show che ho pensato per Milano e Napoli saranno irripetibili, una nuova sfida mi attende a settembre, Marrageddon, il mio primo festival, non potete mancare.